Emilia hai fatto una cosa gravissima, se stavamo io e te non era successo niente, ormai Polcarelli Allora praticamente è inutile fare, le Ducati restano a piedi, Emiliano sta senza liquido e adesso Polcarelli ha fatto un un annesto proprio, hanno fatto una cosa grossa, guarda che stanno a combinarlo Polcarelli come la vedi sta cosa? Rossa Ma non è che dobbiamo chiamare pure l'assistenza perché mi sa che qua Ci stiamo vedi, sta al massimo La forza è al massimo è troppo Scusa No, non te lo dico 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 Non te lo dico No, non te lo dico in the great outdoors forever free in the great outdoors Grazie a tutti. 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 Dove si va con la strada? Addeccoci? Addeccoci a quella che è sale. Va bene. Panini di tutti i tipi. Folcarelli già sta attendendo la salciccia casareccia? Carli di tutti i tipi. Hai capite che panini di tutti i tipi. C'è un'altra parte fa? Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti